Pensiero del giorno. I miei cari sono vegliati da Dio e dagli angeli. Affido tutte le mie preoccupazioni al cielo. Grazie esseri divini per vegliare sui miei cari, in particolare su e qui potete dire il nome della persona o delle persone che volete. Lascia andare le preoccupazioni riguardo i tuoi cari. Tutte le persone hanno angeli custodi che vegliano interrottamente su di loro, inclusi i tuoi cari. Invece di preoccuparti per i tuoi amici e familiari, chiedi che ulteriori angeli stiano al loro fianco. Nel momento in cui lo fai, la tua richiesta viene accordata. Più grande è il numero di angeli che circondano te e qualcun altro, più quella persona è protetta dall'amore. Questa forza difende te e quelli che ami dalle tempeste e dalle correnti burrascose, aiutandoti a essere felice e al sicuro. Proprio in questo momento stiamo vegliando su di te e sui tuoi cari. Affida a Dio le preoccupazioni su di loro e ricorda che, grazie alle tue preghiere, noi angeli li stiamo proteggendo.